Ciao ragazzi e bentornati su PSQ Watches, io sono Pasquale, come state? Spero tutto bene e oggi insieme parliamo di Rolex ma prima di farlo ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti quanti per il continuo supporto che è dato al canale scusatemi la mia inattività qui su YouTube, sono tornato in grande stile con questo nuovissimo video e vi chiedo di supportare il canale iscrivendovi e attivando la campanella delle notifiche per voi è un gesto gratuito ma per me significa tantissimo e voi restate sempre aggiornati su tutte le novità che appunto arrivano qui su YouTube. Il concetto di base che c'è dietro questo video probabilmente sarà anche poi il titolo è il 124060 quindi l'ultima referenza di Submariner, è effettivamente il miglior Submariner di sempre? Io credo che da tantissime prospettive questo orologio si possa definire il miglior Submariner di sempre banalmente se ci basiamo su quella che è la qualità dell'oggetto in sé per sé è in dubbio il fatto che questo sia il miglior Rolex Submariner mai prodotto perché chiaramente abbiamo degli standard qualitativi veramente eccellenti abbiamo tantissime migliorie fatte proprio dal punto di vista tecnico, meccanico, estetico però poi ci sono tutti quei piccoli cavilli che mi fanno dire sì e no ma voglio con voi analizzare un po' tutto il pacchetto e capire se effettivamente questo può essere definito come il miglior Submariner di sempre. Partiamo da quello che ci colpisce subito ed è quello che capiamo immediatamente non appena proviamo questo nuovo 124060 ovvero le proporzioni più simili al vecchio 14060 definito da tantissimi appassionati, me compreso probabilmente in termini estetici la perfezione raggiunta da Rolex probabilmente i Rolex 5 cifre rappresentano proprio questo in termini stilistico la perfezione di quello che è un mondo legato alla lunetta in alluminio il nuovo 124060 prende tantissimo spunto in termini estetici rispetto al vecchio 14060 che invece aveva una cassa un po' più cicciottella, un po' più squadrata qui ritroviamo una cassa più snella, più filante, più simile a quelle che erano appunto le proporzioni del 14060 ma indubbiamente abbiamo delle dimensioni un po' più abbondanti abbiamo un'estetica generale, potremmo definirla così, maxata in tutto e per tutto quindi dalla corona, dalla ghiera, dagli indici, le sfere, il bracciale, tutto più grande però mantenendo quelle proporzioni continuando a parlare di quello che è il design dell'orologio è importante fare un appunto su quella che è la storia sono due aspetti strettamente collegati tra di loro perché secondo me la chiave di vittoria e di lettura che dobbiamo dare a questo orologio è il fatto che nonostante siano cambiate le epoche, le mode e siano cambiati i gusti delle persone questo orologio è rimasto praticamente identico dalla sua nascita dal 1953 questo orologio è sempre rimasto fedele a se stesso ha seguito e ha avuto delle mutazioni, dei cambiamenti nel corso degli anni ma praticamente Rolex ha sempre offerto lo stesso design e la stessa filosofia dietro questo orologio due cose che secondo me poi fanno grande Rolex proprio da questo punto di vista io credo che il Submariner quando lo si guarda, quando lo si apprezza, quando lo si studia va apprezzato per quello che ha fatto nel settore orologi perché credo che Rolex grazie a questo orologio abbia scritto l'alfabeto dell'orologeria sportiva e subacquea senza probabilmente il Submariner non ci piacerebbero neanche tutti gli altri diver lo so, può essere difficile da capire come concetto ma Rolex grazie a Submariner ha reso grande il mondo della subacquea e degli orologi appunto sportivi in questo campo da lì poi nasce tutto il successo di tantissimi altri brand che hanno avuto degli ottimi orologi e che fanno tuttora degli ottimi orologi però credo che dentro di noi se ci piacciono gli orologi da polso sicuramente ci piace Submariner perché ha degli elementi, dei tratti distintivi che poi fanno parte proprio di un linguaggio che coinvolge tutto il mondo orologi l'altro aspetto sicuramente che mi fa riflettere sulla questione miglior diver di sempre o comunque miglior Rolex Submariner di sempre è la qualità che è imbattibile credo che Rolex anche da questo punto di vista faccia scuola a tantissimi altri marchi il prodotto per quanto sia effettivamente costoso e inflazionato perché parliamo quasi di 9.000 euro di listino se non addirittura di più ha un prezzo veramente importante però racchiude dentro di sé una qualità ma specie nel bracciale ragazzi i bracciali Rolex della nuova generazione di Rolex sembrano essere dei bracciali integrati cioè sembrano degli orologi a bracciali integrato proprio per la costruzione solida la solidità che ti danno sul polso nessun altro brand almeno dal mio punto di vista o per quella che è stata la mia percezione riesce ad offrirti la medesima sensazione quando si tratta di diver trovo l'orologio estremamente bilanciato proprio come se fosse un orologio a bracciali integrato ma arriviamo a quello che poi è il mio grande dubbio ed è il motivo per il quale poi ho fatto questo video ed è l'aspetto della vistosità sul polso il fatto che sia un orologio così tanto appariscente il fatto che perda un po' quel concetto che invece secondo me racchiudevano perfettamente 5513 e 14060 le mie due referenze preferite di Submariner e se dovessi sceglierne una piccolo spoiler se proprio potessi permettermelo sceglierei un 5513 bicchierini per me è l'eleganza in termini di Submariner la dimensione perfetta il vetro plexi poi si sposa a perfezione con quello che è il quadrante glossy per me è un'unione perfetta di cose 5513 bicchierini quindi per me quello è il Submariner per eccellenza questo effettivamente ha il difetto che ha tutta la Rolex di oggi ovvero il fatto che sia troppo appariscente troppo effettivamente vistoso però secondo me il Submariner rispetto allo Sprite al Batman al Root Beer al Pepsi è molto più diciamo sottotono quindi riesce un pochettino a conservare il suo design originale quindi paradossalmente possiamo ritrovare all'interno di tutto il catalogo Rolex sportivo professionale l'unico vero orologio diciamo che continua a mantenere viva questa sua anima è proprio il 124060 detto questo ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate secondo voi qual è il Submariner migliore di sempre datemi dei pro e dei contro di ogni referenza che appunto vi piace di Submariner motivatemi un pochettino la vostra risposta e parliamone qui sotto nei commenti ringrazio il mio amico Roberto per avermi prestato questo orologio per la realizzazione di questo video e soprattutto gli faccio gli auguri perché lui l'ha appena ritirato qualche mese fa quindi tantissimi auguri beato te e detto questo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto spero che le mie immagini vi facciano come sempre sognare di indossare gli orologi che vedete in video e noi ci vediamo ad un prossimo contenuto qui su YouTube e su Instagram se vi va seguitemi mi chiaccio la PSQ Watches dove pubblico tantissimi contenuti quindi andate anche lì a vedere tutto quanto ciao ciao